...splendentamente bene e perdono meno palloni degli avversari. Va lui di prima iniziativa con il sostegno questa volta di Capitan Cutitta, ancora con Gassner in avanti, stiamo davanti ai pali della porta islandese ancora in attacco, e Troncon, e Troncon Arancio dietro di lui, Arancio viene saltato, Dominguez per Paolo Carimeta, è la seconda meta personale e potrebbe essere questo il sorpasso, 29-23, siamo 29-28, la trasformazione di Diego Dominguez potrebbe significare il vantaggio, il sorpasso. Troncon ha tenuto gli avversari all'altezza dei pali, forse persino esagerando l'azione lì vicino, ma lì sono dovuti rimanere con la fisarmonica stretta, stretta gli irlandesi, e poi guarda invece Troncon qui, salta il primo uomo in sostegno, e dà la palla al playmaker fuori, che guarda prende il mezzo buco esterno, Vaccari è bravo a seguirlo, guarda come si infila Vaccari proprio sulla scia, ti prendo la scia Diego vai, eccolo lì, ti prendo la scia, pallina messa nel marsupio, toccato a terra splendido nel nostro trequartiale. Terza meta dell'Italia, Lensdown Road, tre metri a uno. Vai Dieguito. Diego ha la possibilità del sorpasso, non ha sbagliato niente, fino a questo momento, cinque tentativi centrati, due trasformazioni. Grande tuss di Cristofoletto, grande tuss di Cristofoletto, tenuto al cielo dei compagni. E vediamo, c'è! E vediamo, centrare i pali, ed è sorpasso, siamo al ventiduesimo minuto del secondo tempo. 30 a 29, veramente una partita questa, che tiene col fiato sospeso i numerosi spettatori a corsa, Lensdown Road, che stanno sostenendo. Forza Italia, anche noi. E ancora una volta, sono schiacciati. Uno che prende il triangolo lungo di Vaccari. Sono schiacciati ancora nei vinciti degli irlandesi, gioca velocemente, Bordone, bravo! Bordone ancora, Stoic, nuova palla, mazzucato, è il sostegno a largo, ci stiamo, Bordone, di Dominguez, Dominguez! Metà, è finita, è finita! Eh sì, Diego Dominguez, eccoli qua! Bravo! Giusto l'abbraccio, Gardner che porta alto, Diego Dominguez, 35 a 29, e il tempo regolamentare sta scadendo in questo momento. Era nell'aria, perché c'era tutta la pressione di una squadra che aveva vinto sulla testa la squadra avversaria. Gatto col topo! Guarda qua, guarda qua! Ma è questo Orlandi, Orlandi cosa ha fatto, eh? E' incredibile! Se lo fa 30 volte gli cade di nuovo tutto il cabaret delle paste! Ma guardiamo, ecco, da questa nuova operatura! Guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda, dietro il passale dietro! Ma è incredibile! Mamma mia, e quando ci vuole ci vuole, eh? Eh sì! E quando ci vuole ci vuole, ed è Diego Dominguez che va a sigillare una prova maiuscola sua personale, ma di tutta la squadra, tatticamente ineccepibile, ha giocato un secondo tempo perfetto, usando il vento nel modo migliore, ma soprattutto costruendo una prima linea, una trinzea difensiva lontano dai propri pali, grazie anche al vento, grazie al piede di Dominguez, ma soprattutto grazie alla determinazione e ai meccanismi di difesa che nel raggio dei 25 metri attorno al PACA sono eccezionali. Dieci secondi ed è finito il tempo regolamentare, Diego Dominguez ha la trasformazione della meta messa a segno proprio da lui, vediamo la palla e c'entra i pali, veramente infallibile! E in questo momento il triplice fischio finale dell'arbitro gallese Davis, si abbracciano, guardate qua la soddisfazione, veramente un sogno questo, avere vinto qua, l'Hands on Road 37 a 29, quattro metri della formazione italiana, e questo sì che è sicuramente un biglietto da visita che vale, vale oro! Grande prestazione degli italiani che ora festeggiano in mezzo al campo, mentre gli irlandesi che se ne vanno veramente a capochino. Eh sì, una grande soddisfazione questa per gli azzurri, una grande soddisfazione per tutti noi, una grande soddisfazione per l'Italia, dovevamo andare veramente orgogliosi di questo risultato. Guarda Cristofoletto, la soddisfazione, ha vinto due o tre tush di un'importanza eccezionale, hanno lottato contro degli avversari più forti di loro in quella fase di gioco, ma non hanno mai ceduto completamente, hanno sempre lottato e hanno portato a casa, alla fine, quando sono ceduti sulla testa degli irlandesi, hanno portato a casa palloni importanti, con Croci, marcatissimo, ma anche con Cristofoletto, anche Checchinato una volta entrato con una palla importantissima in momenti tattici, mentre Marie Kidd è veramente lui e il suo assistente Brewer, conoscitissimo in Italia, anche All Blacks.